Abbiamo, come ha detto giustamente, sette siti cemiteriali. Questa mattina abbiamo iniziato il sopralluogo all'interno degli stessi, perché volevo rendermi conto personalmente di quale fosse la situazione. Abbiamo iniziato dal cimitero di Bari, nel quale c'è la necessità di operare delle azioni di ripristino, soprattutto di alcuni mezzi, per esempio i pilomat non funzionano nei vari accessi, dobbiamo regolamentare meglio l'accesso da parte di moto, di autovetture che vengono utilizzate anche dagli addetti ai lavori e dobbiamo regolamentare anche la possibilità di avere certezza che chi vi entra a titolo per farlo, ovviamente parlo di coloro i quali delle ditte che vi lavorano all'interno. C'è un progetto di project financing con il quale riusciremo ad avere un secondo forno crematorio all'interno del cimitero di Bari e stiamo operando in questi momenti una serie di azioni a tutela degli altri siti cimiteriali minori, questo per garantire quella tranquillità e serenità di cui parlavamo prima che è d'obbligo in determinati siti. Buon lavoro! Grazie! Perfetto!